Abbiamo visto la volta scorsa i principi della dinamica, in particolare il principio di inerzia e abbiamo visto il concetto di forza e il comportamento elastico della molla e in particolare come, qual è il meccanismo che fa funzionare il dinamometro. Ricordate il dinamometro è quell'astro che ho dentro la molla, si occupa una forza agli estremi, la molla si allunga e c'è una scala graduata che mi dice qual è la forza applicata. Perché è finisima così? Perché la molla, che è il prototipo del corpo elastico, se viene deformata reagisce alla deformazione con una forza che tende a riportare la lunghezza di equilibrio e la forza elastica, cioè la forza di cui la molla reagisce, è proporzionale alla deformazione nel caso della molla si tratta solo di aumentare o diminuire la sua lunghezza e il diretto è inverso opposto alla deformazione, se la molla viene allungata la forza tende ad accorciare e se la molla si viene accorciata la molla viene allungata, ok? Quindi se ho una manutenzione verticale che ha piuttosto una forza alla molla, la molla reagisce con una forza FE uguale a contraria e la forza elastica, la forza con cui la molla agisce sull'estremo libero dell'anello è proporzionale a questo delta L che è un vettore allungamento cioè lunghezza attuale meno lunghezza di riposo per lunghezza possiamo intendere il vettore che dà la posizione dell'estremo libero da questo punto a questo punto se quello aumenta la molla viene allungata quindi in questo caso il vettore del T L è verso il basso se invece la molla viene accorciata allora il vettore allungamento è verso il basso e la forza è verso l'alto e l'estremo libero questa relazione è chiamata legge di Hooke e i corpi elastici si comportano in questo modo cioè hanno una la possibilità di essere deformati da una causa esterna che è una forza e la deformazione è proporzionale all'effetto deformante cioè alla forza e una volta che viene rimossa la causa deformante cioè alla forza tornano nella forma iniziale ok? bene abbiamo anche visto in laboratorio il comportamento elastico studiando qual è la relazione tra la forza applicata e l'allungamento e per farlo abbiamo usato un'altra forza che è la forza peso ok? e quindi questo è quanto riguarda la forza elastica poi abbiamo visto la forza peso il terreno l'anno scorso avevo già studiato il moto dei gravi se lancio un oggetto o se lo lascio cadere il moto è un moto uniformemente accelerato e qualunque oggetto è accelerato verso il basso da con un'accelerazione che vale per tutti i corpi abbia lo stesso valore G è 9,81 metri al secondo quadrato ma secondo il secondo principio della dinamica se c'è un'accelerazione c'è anche una forza se la massa dell'oggetto è M il prodotto massa per accelerazione M per G è una forza massa per accelerazione a questa forza do il nome di peso il peso è la forza che la terra applica con cui la terra attira tutti gli oggetti che stanno sulla sua superficie verso il centro della terra siccome sulle scale di tutti i giorni il suolo è approssimabile come un piano in realtà è una superficie curva in grande scala ma noi possiamo approssimare come una superficie piana allora l'accelerazione è un vettore che in tutti i punti punta verso il basso e ha ovunque la stessa grandezza l'accelerazione è la stessa per tutti in tutti i punti d'accordo? più avanti vedremo un po' meglio come funziona G questa è solo un'approssimazione se io sto sulla superficie della terra e non me ne disposto molto quindi prima cosa importante attenzione alla differenza tra peso e massa la massa è uno scalare ed è la stessa in tutti i posti ok? il peso è un vettore che dipende dalla massa ma dipende anche dall'accelerazione di gravità che sulla terra ha un certo valore sulla luna ne ha un altro su Marte ne ha un altro dipende da qual è il soggetto che causa l'accelerazione di gravità d'accordo? mentre se io peso l'oggetto sulla terra trovo un determinato peso se lo stesso oggetto con la stessa massa lo peso sulla luna con la stessa bilancia trovo un peso diverso perché la bilancia mi dice questo numero non questo se è tarata sulla terra non perché la massa dell'oggetto sia diversa ma perché è diversa g sulla luna g è circa un sesto di quello che è sulla terra sulla terra è 81 sulla luna è 1,6 mettersi un quadrato quindi se vado sulla luna faccio una cura dimagrante istantanea perché pesa un sesto di quello che pesa sulla terra ma la mia massa rimane uguale che significa la massa rimane uguale significa che se io do un calcio a un pallone di piombo anche se il pallone di piombo sulla luna pesa un sesto di quello che è sulla terra mi dispo il piede nello stesso identico modo perché la massa del piombo è la stessa io mi faccio male al piede perché che col pendolo calciandolo subisco la stessa forza principio di azione e reazione e la forza con cui il piombo reagisce è proporre la sua inenzia quindi mi faccio male nello stesso identico modo anche se sulla luna la palla di piombo pesa un sesto di quello che pesa sulla terra ma la massa è la stessa ok tutto chiara l'esercizio supponiamo questo abbiamo già fatto la mola pari di appendere un corpo di massa m pari a 5 kg a una mola di costante elastica k e che la mola si allunghi di un tratto delta l pari a 2 cm quanto vale la costante elastica della mola ok allora in questione di equilibrio quando m è ferma devo andare a vedere quante e quali forze sono applicate a m le forze applicate sono due ho la forza peso che vale la massa e l'accelerazione di realità le forze sono vettori ricordate nel punto e la forza elastica che vale meno k volte del l'accelerazione se le due forze sono in equilibrio significa che la loro somma vettoriale cioè la forza risultante vale zero primo principio della dinamica l'oggetto è in equilibrio cioè mantiene il suo stato di moto in questo caso di quieto non cambia la significativa quindi la somma delle forze applicate da zero d'accordo? ora qui ho un problema che è unidimensionale tutto si svolge in una sola direzione posso proiettare i vettori lungo l'asse verticale prendendo per esempio come asse positivo quello verso il basso verso l'alto sarebbe identico ok? basta scegliere una convenzione mi prendo un cosa lo disegniamo in azzurro l'asse verticale che descrive il mio sistema dico che qui c'è l'origine e misuro la posizione del corpo M rispetto a ora ok? quindi verso il positivo e verso il basso posso cambiare pagina? è chiaro questo? in questo modo la forza peso che è diretta verso il basso ha un segno più posso togliere il segno di vettore perché li proietto sull'asse verticale questa è M o G la forza elastica che invece è diretta verso l'alto ha un valore negativo perché il mio verso positivo è verso il basso quindi meno K che è l'allungamento della molla ok? quindi P più FE deve fare zero P anzi scusate cioè Mg meno K delta N uguale a zero la mia incontra vi ricordo che è K quindi meno K delta N uguale a meno Mg K vale Mg fratto delta N Mg la costante della molla la trovo dividendo la forza peso diviso l'allungamento della molla ovviamente deve essere in unità del sistema internazionale massimo in kilogrammi G m2 del tè di metri scatto da riscrivo allora la massa del peso era di 5 kilogrammi per 9,81 metri al secondo quadrato diviso 2 centimetri 0,02 ok e ottengo facciamo un rapido calcolo 2452.5 N fratto metro chilogrammi per metri su un quadrato è la unità di misura della forza che è il Newton tutto chiaro? questa è la k della mia molla ok domanda che di quale forza avrei bisogno se volessi comprimere la molla di un tratto di 5 centimetri la stessa molla di prima voglio apporciarla di un tratto pari a 5 centimetri che forza mi serve? qual è la forza che riuscirei a schiacciarla di 5 centimetri cioè a renderla più corta di 5 centimetri se mi interessi solo l'intensità della forza cioè la lunghezza di questo vettore è sufficiente che faccio k per delta l cioè 2452 52.5 newton fratto metro per 0,05 metri per 0,05 metri che serve una forza che scrivo qua di 122,625 newton d'accordo? spurgiamo dito questo prendiamo un altro esercizio un altro esercizio grazie a tutti davanti supponete di avere una moda da un K pari a mille Nm una molla abbastanza lì e questa molla la mettete all'interno di una struttura tipo un tubo un po' come non avete mai visto le moto che hanno sulla forcella delle ruote delle molle che si chiamano ammortizzatori e si chiamano per smorzare gli ulti con le buche eccetera i sassi eccetera che però possono comprimersi solo di un tratto massimo possono comprimersi di qualsiasi lunghezza perché non potete ridurre la loro lunghezza a zero e supponiamo che la mia molla abbia una compressione massima per come è fatta per dove si trova di 8 cm qual è la massima forza che è in grado di sopportare questa molla? cioè qual è la forza in grado di produrre un accorciamento della molla di 8 cm? nessuna proposta? K diviso per che è diviso? K per la la forza è K a volte 30 N quindi la forza massima a cui è in grado di resistere questa molla senza rompersi senza per procurare danni vale il capo della molla per l'approcciamento massimo ok quindi quindi 1000 N al metro per 0,08 metri cioè 88 se mi interessa fare in modo che la forza massima applicabile sia più grande devo aumentare K normalmente la struttura ha una certa dimensione non posso agire tanto su questa ma posso cambiare il capo della molla cioè metto un'altra molla chiudo chiaro? bene mettiamo un altro esempio passiamo alla forza peso forza elastica tutto sommato mi sembra che abbiamo detto abbastanza prendiamo il pavimento questo è un tavolo ok sul tavolo è appoggiato un libro fin tanto che appoggio il tavolo si appoggio sopra un libro il libro è in finché sta lì fermo lo osservo vedo che la sua posizione non cambia significa che è in equilibrio un oggetto un oggetto può essere in equilibrio per due ragioni diverse una molto semplice non ci sono forze sul libro di nessun tipo nessuna forza è il caso di questo no perché almeno una forza c'è senz'altro qual è? la forza peso o forza di gravità sul mio libro senz'altro agisce la forza peso però il libro non si muove in particolare non accede cosa deduco? che c'è un'altra forza quale sarà questa forza misteriosa? e soprattutto chi è che chi ne è responsabile? il tavolo il tavolo il tavolo il tavolo è responsabile dell'altra forza perché se io immagino mettere lo stesso libro fuori del tavolo il libro è comunque soggetto alla forza peso ma comincia a cadere appena lo lascia andare perché? perché l'unica se trascurro la trito con l'aria l'unica forza che agisce su questo libro è la forza peso quindi questo si muove ok? mentre questo è inquieto significa che c'è un'altra forza che bilancia il peso cioè che fa in modo che il totale sia zero allora in questo caso la forza risultante è uguale alla forza peso che non è zero e quindi il corpo si muove in questo caso invece nel caso del libro sul tavolo la forza risultante sarà uguale al peso più a una forza che non conosco il totale deve fare zero la forza che non conosco è dovuta al tavolo e per rilanciare il peso come deve essere fatta? se ho due forze, due vettori affinché il totale sia zero i due vettori devono essere esattamente uno opposto dell'altro stessa direzione stessa lunghezza ma verso opposto ottimo questa forza prende il nome di reazione vincolare perché nel latino vinculis catene il vincolo è tutto ciò qualsiasi dispositivo che limita le possibilità di movimento se io sono incatenato posso muovermi ma non più che tanto ok? il vincolo ha questo effetto dire che un corpo è sottoposto a dei vincoli significa dire che le sue possibilità di movimento sono limitate nel caso del libro sul tavolo il libro può muoversi orizzontalmente lungo il tavolo senza problemi ma non può muoversi verticalmente il moto verticale che sarebbe il moto prodotto dalla forza peso viene ostacolato e impedito dalla reazione del tavolo ok? il tavolo per come è fatto per la sua struttura interna è in grado di bilanciare la forza peso di un accento che gli ha appoggiato sotto cioè se si mette sopra un infante magari il tavolo si rompe ma il libro lo tiene su quindi ripeto un dispositivo che limiti le possibilità di movimento si chiama vincolo il modo in cui il vincolo agisce è tramite una forza che prende il nome di reazione vincolare e tale forza è fatta in modo tale che alcuni moti alcuni tipi di moti sono ostacolati sono bloccati sono impediti in questo caso tutti i moti perpendicolari alla superficie del tavolo ok? di conseguenza se la massa del libro appoggiato è di un chilogrammo la forza peso sarà di 9,81 newton 1 chilogrammo per 9,81 metà al secondo quadrato totale 9,81 newton e la reazione vincolare avrà lo stesso numero di newton ma verso il posto ok? stessa cosa se appende un libro alla parete gli aiutati un quadro alla parete se ho un un quadro che metto un chiodo ok? il chiodo impedisce i moti verticali consente al quadro di oscillare ma non lo fa cadere questo è un vincolo quindi reagisce con una forza che fa sì che il peso del quadro sia bilanciato dalla presenza del quadro chiaramente ogni vincolo è un vincolo che può agire se la solicitazione a cui è sottoposto non supera determinati limiti quindi il peso dell'elefante sul tavolo ok? entro determinati limiti il vincolo funziona altrimenti si dice che il vincolo si rompe o che non è più in grado di esercitare la sua reazione ok? finché il tavolo è orizzontale non c'è problema quindi il peso del libro la massa del libro è 1 kg allora il peso del libro è 9,81 N e la reazione del vincolare sarà anch'essa 9,81 N quello che sono due vettori di verso opposto ma di stessa intensità e direzione ok? lo stesso effetto posso adderlo per esempio non so se ricordate posso andare avanti? se qui c'è il soffitto il soffitto da un lancio prendiamo la verticale del soffitto e allora al soffitto a pendolo un filo a cui attacco un oggetto di massa etne quello che ho visto l'anno scorso poi il pendolo quando il pendolo è in equilibrio lungo la verticale sull'oggetto sospeso agiscono quante forze? una e una reazione vincolare in questo caso è dovuta non a un tavolo ma alla presenza del che cosa c'è che tiene sui il pendolo il filo quindi il il nostro pesetto peso è soggetto alla forza peso e a una reazione vincolare che prende il nome di tensione il filo è in tensione teso la tensione del filo è ciò che bilancia il peso e tensione più il peso se il filo ripeto il pendolo è in equilibrio sulla verticale deve dare il risultato nulla ok? quindi quando il peso il pendolo è lungo la verticale la tensione bilancia e quindi è uguale in intensità il peso cioè la lunghezza del vettore tensione è uguale alla lunghezza del vettore peso quindi se metto lì un peso di 10 grammi d'accordo? allora la tensione misurerà 0,98 newton vabbè c'è poco meno di un newton ha la stessa intensità ma verso opposto è tutto chiaro? se ma questo lo vedremo un pochino più avanti invece il peso non è la lungola verticale ok? allora la tensione e il peso non sono più allineati e se ho due vettori ne ho solo due ripeto trascuriamo l'attrito con l'aria che non sono allineati posso avere la situazione di equilibrio cioè due vettori possono bilanciarsi? no se su un punto applico due vettori se questi non sono paralleli non potranno mai bilanciarsi infatti se scosto il pesetto dalla verticale questo si muove e lo lascio andare se non sta fermo perché le due forze non importa quanto valgono ma non possono bilanciarsi non saranno mai opposte avranno direzioni sempre diverse però sempre verticale e la tensione è sempre direttamente in fila che lo possono parar ok? sta per suonare per le pc fermiamo suonare no Grazie.